Marco fermo, che stai facendo? Devo mettere a posto, come tu mi hai detto? No, secondo le tue idee, tanto lo so. Allora, lo sgabello intanto lo metti un po' più in qua. Te lo metto qui, va bene? Avevo detto più in qua, ma va bene lo stesso. Te lo metto qui, va bene lo stesso. La scrivania, più avanti, che ci devo stare io lì. Così, così ti va bene? No, era meglio prima. Era come l'avevo messa io, è così adesso. Ascolta, il pallone, il pallone sopra la scrivania, come ti avevo detto. Ma come, l'ho messo l'azzo, l'ho messo qui. Ecco, ti va bene qui? Va bene Alessia, così? Marco, ascolta, è tutto da rifare, è meglio che tu parli di calcio, guarda. Ma come Alessia, dai, è tutto da rifare. Dai, io devo preparare tutte le notizie ultime sulla Fiorentina. Devo preparare i servizi, devo stare dietro a tutte le squadre che minano in Toscana della Serie B e della Serie C. È una settimana che stiamo qui a dipingere, a montare, a smontare. Dai, ora basta Alessia, dai. Ascolta Marco, noi dobbiamo essere pronti perché dal 30 di agosto il Salotto del Calcio arriva su TVL. Benissimo, benissimo. E voi avete capito? Tutti i lunedì alle 21 dal 30 di agosto l'appuntamento con il Salotto del Calcio è su TVL, in diretta, con tante interviste, grandi ospiti e tutto il calcio toscano dalla Serie A alle Serie Minori, compreso il settore giovanile. Vi aspettiamo. Alessia, ci sarei anch'io trasmissione, eh? Sì, sì, naturalmente c'è anche Marco Mordini. Ora però Marco, torniamo a lavorare. Torniamo? Torno a lavorare? Una settimana faccio tutto io.